Il complemento di estensione, lezione base, a cura del prof. Alfonso Zera. Il complemento di estensione indica la dimensione in lunghezza, larghezza, altezza e profondità di ciò di cui si parla. Come nella frase, la pineta di Cervia si estende per 194 ettari. Il complemento di estensione risponde alle domande Il complemento di estensione è introdotto dalle preposizioni per e a quando dipende da verbi come estendersi, elevarsi, scorrere. Come nella frase, il Vesuvio si eleva per 1281 metri sul livello del mare. Dalla preposizione DI quando dipende da nomi come estensione, elevazione, profondità. Come nella frase, il parco regionale dei Monti Lattari ha un'estensione di 16.000 ettari. Dalla preposizione SU, dagli avverbi circa, quasi, dalle locuzioni all'incirca, su, per, giù, quando indica un'estensione approssimativa. Come nelle frasi, quel palazzo è alto sui 20 metri, quella bete è alto circa 40 metri, la profondità massima del mar Mediterraneo è all'incirca 5267 metri. Il complemento di distanza non è introdotto da alcuna preposizione quando dipende dagli aggettivi lungo, largo, alto, profondo. Come nella frase, questa piscina è profonda 3 metri, larga 12 metri e lunga 18 metri. Grazie per la visione!